Bambine! Ciao! Noi siamo Giulia e Anna. Oggi abbiamo il nostro tutorial come vestirsi meglio se dovete fare una bellissima serata con un principe. Sì, se il vostro principe è galante, è molto bello e bravo. Sì, biondo con gli occhi azzurri. Dovete vestirvi nei miglior vestiti che avete. Come i nostri, noi abbiamo dei miglior vestiti di sempre, bambine. Sì, è vero. Ve li facciamo vedere. Il primo vestito è vestito blu. Bellissimo vestito blu lungo ed elegante che sta bene a tutte le tipologie delle ragazze. Il primo vestito è quello blu. Il secondo vestito sulla nostra palomodella è bianco. Bianco, bianchissimo come la bianca neve. È un vestito con tre righe, una rossa, un'arancione, una verde ed è come della principessa. E il terzo vestito sulla nostra bellissima regina che potrebbe scegliersi il bellissimo vestito. L'ha scegliato Liamo, che è molto bella, ma la dobbiamo spostare un attimo. È il vestito bianco da principessa con dei bellissimi fiori rosa. È quasi un vestito da sposa, ma non lo è. È un vestito per uscire fuori e fare i giri con Ken. Wow, tre meravigliosi vestiti. Sono tutti e tre veramente belli, belli, belli. Vero, bambine? Lo sappiamo. Ma non finisce qui. Bisogna scegliere anche dei tacchi. E per questo vi abbiamo portato la macchinetta con i tacchi. Devi solamente scegliere il prezzo che vuoi, per i tacchi che vuoi. Guarda, devi girare e vedi tutti i tacchi. Il primo paio sono i tacchi rossi, che puoi mettere su qualsiasi piede. Sono meravigliosamente belli. La prossima è bellissima colana. Per scoprire questa colana bisogna aprire tutto quanto. È una colana che si mette molto bene sul collo di qualsiasi ragazza. Guardate che bello. Una colana meravigliosa. Continuiamo a girare. Qui cosa succede? Qui c'è una bellissima borsa rossa. Invece più giù troviamo delle borse rosa e fucsia o blu. Belle, belle borse per Barbie. E chiudiamo. La prossima tappa è questa. Con lana, scarpine. E poi cosa c'è? Cosa manca? Deve girare così. Ci sono dei belli, belli tacchi neri. Ma non finisce qui. Gira. E d'altra parte c'è un altro. Tacco nero. Tacco grigio. Tacchi rosa con i bellissimi, bellissimi fiocchi blu. Tacchi rossi. La borsetta nera. E tutto questo dentro bellissimo Barbie. È fatto apposta l'armadio per le femminucce. Bambine, e ora mi dovete dire quale vestito vi è piaciuto di più per scegliere per la festa? È vero. Che vestito scegli se vai in giro con il ragazzo che ti piace? Quello bianco. Tutto bello, bello. Primo. Quello blu. Tutto bello, bello, bello. Secondo. È quello bianco di colori diversissimi. Con le righe rosse, arancioni e verdi. Bello. Vi facciamo vedere la casa di Barbie. Lassù ci sono le modelle con delle scarpe, la tv, la vasca, porno. Secondo piano c'è i divani e i bambini. E giù abbiamo un divano letto gigante. Poi c'è la cucina che si nasconde. E qui stiamo facendo pian piano una grigliata. E adesso, bambini, noi vi salutiamo. Sì, diteci giù o mettete mi piace. O scrivete sotto nei commenti quale vestito vi piace di più. Sì, così noi lo mettiamo e vi facciamo delle modelle. Ciao ciao bambini. Ciao bambini, vi salutiamo. Mi raccomando, guardate i nostri video e ci seguite sul nostro canale di Barbie. Ciao bambini. 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 Ciao bambini.